Questo è il mio collega Passo che guida, collega Passo nelle strade di Fiesso, il collega Passo che ride Queste sono le strade di Fiesso, osservare il grado di degrado, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina Cosa succede qua? Vediamo se le macchine, no? Tutto a posto, documentiamo un incidente in diretta, la piscina del paese Questa è la strada per andare su il ristorante Prima incontriamo la casa di Marco Bracaglione Proseguendo per qua andando sempre dritti si arriva a Frittole Ecco una macchina verde incalmata con un cimice Si vede già la casa Si vede già la mia casa Oh Giorgio che siamo qui a arrivare Eh Guarda guarda nuvoio Guarda nuvoio Ecco qua Si nota a sinistra la mia futura casa Eccola lì Futura casa, eccola lì Eh, condivieto di caccia Come? Condivieto di caccia Eh, ecco il coincidente Lì ha un'altra casa, guarda che bella casa, che lì mi piace eh Altro che Si amerita un'acqua a Fies Piace più che la lacca Si, l'è meno un'altra Fies su questo che si è fatta una casa così No, non so Ah c'è la mia casa Fra poco, fra poco arriviamo a casa di Isacco Che la vogliono vendere ma io non esisterò Fra poco, ecco lì, casa di Isacco Con i bagnetti Qui sulla destra si nota casa di Isacco Con i quattro bagnetti esterni Sempre vendersi Ecco qui, casa di Isacco Tutta aperta Qua c'è il canale navigabile di Fienso Grande rotta commerciale Polenta secca Campi di polenta Incrocio pericolosissimo Attenzione, stiamo per giungere all'incrocio pericoloso Noto per migliaia e migliaia di incidenti mortali Attenzione, attenzione Stiamo per arrivare in zona che non vuole assa No, anche che vede Nuvolo assa Hanno venduto tutto Ah, io ho venduto tutto Che c'è il commerciante lì di merda Stiamo arrivando in località piecentina Attenzione, sulla sinistra Stabile bianco Grisù Noto per le raffinate ricette all'aglio Di tutti i piatti Primo, caffellate col pan con l'aglio Buongiorno Qua c'è la gente che passa la strada Ora qua Documentiamo qui Come te, macchina come viene di capati Buongiorno Buongiorno Passo e chiudo